Non c'è un euro per l'edilizia scolastica, la regione Veneto non ha alcuna intenzione di investire in questo capitolo di spesa che invece è stato tagliato negli anni scorsi. Noi siamo molto preoccupati da questa situazione, infatti alcune abbiamo ricevuto segnalazioni da diverse scuole del Veneto, in primis ricordiamo l'episodio avvenuto prima dell'inizio delle elezioni, prima di inizio anno, a settembre a Licio Bruno di Mestre dove è cascato un controsoffitto ed è stata una tragedia sfiorata. A fronte di queste situazioni la regione ha deciso di non impegnarsi e noi siamo qui per cercare un dialogo con le istituzioni per vedere che cosa si può fare per migliorare questa situazione. Oggi pomeriggio saremo qua fuori davanti al Consiglio regionale con una mobilitazione in cui esporremo tra l'altro tutte le fotografie degli obrobri dell'edilizia scolastica dimostrando che la situazione sul fronte delle scuole del Veneto è realmente problematica e cercando di fare in modo di spingere le parti sociali e le istituzioni a prendere posizioni su questo perché è una tematica che noi sentiamo in modo particolarmente forte. Come unione di universali lamentiamo una serie di tagli che sono andati effettuati da parte del Governo nazionale e a cui non siamo riusciti a vedere che vi sia stato posto rimedio da parte della giunta regionale per quanto riguarda i capitoli sul diritto allo studio. In particolare sulle borse di studio c'è stato un taglio del 50% da 10 milioni e 600 mila a 5 milioni e 600 mila quest'anno che non permetteranno probabilmente di coprire il 30-40% delle circa 10 mila persone, studenti idonei alla borsa di studio quindi dimensioni molto molto alte di questo fenomeno. A questo punto non si è riuscito ad avere allo stato attuale ancora un intervento integrativo da parte della Regione per esempio con gli 800 mila euro che invece l'anno scorso sono stati stanziati. Un'altra nostra preoccupazione riguarda gli ESU, gli enti per il diritto allo studio che ci siano mense e residenze universitarie che malgrado appunto da bilancio risultino avere un bilancio, un'entrata paragonabile se non superiore in parte a quello dell'anno scorso in alcune sedi come per esempio quella di Venezia ma anche a Padova stanno cominciando sulla base di presunti tagli del circa il 20% minacciati dalla giunta a tagliare servizi, aumentare i costi in maniera anche molto molto ingente e a esternalizzare parte dei servizi con una conseguente diminuzione della qualità. Noi ci lamentiamo fondamentalmente per queste due voci di bilancio che riguardo al diritto allo studio non confermano un impegno che invece dovrebbe esserci a nostro avviso. Chiederemo un aumento dei fondi per la formazione professionale perché crescono gli utenti e cresce la domanda. Chiederemo un contributo per l'orientamento scolastico professionale che consideriamo un investimento per impedire dispersione dei ragazzi e delle ragazze. Un contributo prioritario dei fondi per l'edilizia scolastica in base al fatto che pensiamo che non sia la stessa cosa costruire una piscina o mettere a norma le scuole. Cose importanti ma una è prioritaria, la scuola. Chiederemo un intervento straordinario sulle borse di studio per coprire il taglio consistente circa il 50% dello Stato. La regione fa la sua parte ma se sarà necessario dovremmo aumentare e poi contributi significativi per tenere aperti almeno i capitoli dei trasporti, dei libri di testo, degli alunni in difficoltà perché l'investimento in formazione per il Partito Democratico è un investimento strategico per il Veneto. Credo che le richieste che sono fatte sono in gran parte già esaudite perché per quanto riguarda i trasferimenti dello Stato noi non possiamo intervenire per cui i 5 milioni e 6 che mancano dallo Stato credo che su questo non possiamo intervenire. Noi abbiamo mantenuto tutto quello che avevamo mantenuto l'anno scorso e per cui abbiamo dato risposte sia per quanto riguarda le borse di studio, sull'Iesu abbiamo addirittura aumentato il finanziamento perché è un grosso problema che abbiamo, tra parentesi. Il problema dell'Iesu di Venezia l'abbiamo preso in considerazione in 4 o 5 incontri a livello ma è un problema locale dell'Iesu di Venezia, non è un problema di finanziamento, è un problema di gestione dell'Iesu di Venezia. Poi abbiamo il problema dell'edilizia scolastica che l'assessore si è impegnato a risolvere. Credo che per cui tutte le richieste che loro hanno fatto rientrano nelle priorità che questo bilancio ha preso in considerazione e mantiene come l'anno scorso.